E' qui che le fa male vero? Si Ora sistemiamo Ma la sua assistente? Cos'ha la mia assistente? Niente male eh Cosa le piace di lei? Molto professionale Si lo è Professionale in tutto vero? Cioè? Chissà che belle lavoretti che fa quella La roba, lavora molto bene, si Non sai cosa si dice dei bolognesi no? E cosa si dice dei bolognesi? Ah Dai quella che Se ti manda la bolognesi la differenza tra un boccano e tutta lì Dai che la sai No Dai che la bolognesi ti risponde tutta lì Cosa sei tutta lì? E mia moglie? Ah mi scusi Niente Se le faccio male mi avvisa va bene? Si si Nooo Nooo Passiamo al massaggio lombare? No, a suo posto che c'è Ah